Io rispetto la magistratura, sono fiducioso alla magistratura, i PM fanno il loro mestiere e hanno detto la loro. Adesso ci sarà la difesa, ci sarà ovviamente poi la giustizia che dovrà decidere e penso che vedendo le carte si vede che Open Arms ha avuto un'attesa, questi immigrati hanno avuto un'attesa di sei giorni, potevano sbarcare compilando un modulo, Malta aveva posto la disponibilità prima che arrivassero in Porto in Italia di dare 39 posti e non sono scesi, la Spagna li voleva ospitare e non sono andati e quindi questa attesa che era semplicemente necessaria per dislocarli sul territorio è un'attesa che peraltro si è riproposta in tempi doppi da 12, 13, 14 giorni dopo l'accaduta del governo Conte I, con il secondo governo Conte e con altri ministri. Il segretario Selvini il 18 di ottobre ha chiamato la Lega a Palermo, lei ci andrà? Ma noi ci saremo nel senso che nel rispetto della magistratura, nel rispetto della libertà, dell'autonomia della magistratura, credendo in una magistratura che comunque sia obiettiva, leggendo le carte ti puoi solo fare un'idea che non c'è stato nessun intento sadico di sequestrare persone ma è stata semplicemente un'attività che era prevista peraltro di trattenere a bordo e ospitare a bordo i migranti fino alla loro dislocazione. Grazie a tutti!